ciao ragazzi buona serata a tutti ora benvenuti questo nuovo video adesso faremo video un po diverso solito cioè non sarà un video che parleremo di un solo argomento ma parleremo delle news di 2 barra 3 argomenti allora il primo riguarda telefonia che ne abbiamo parlato qualche giorno fa ma ora è uscito questa promo qui che è interessante consiste in questo parliamo sempre di copovoce ok la promo consiste in allora che dal 4 di aprile fino al dovrebbe essere a maggio non subito però visto prima dal 4 aprile dal 7 aprile al 4 maggio sarà sbagliato copovoce erogherà un bonus di 20 euro a ogni persona sul massimo di due sim c'è scritto a persona adesso che allora c'è scritto qui che 20 euro massimo persona funzionerà solo in questo modo che allora dal se vuoi da 7 di aprile al 4 maggio dovreste fare una portabilità del numero non è più come fino a qualche giorno fa che ragazzi se adesso pagherete insomma 10 euro facendolo in online se mi sbaglio poi c'era 15 mi pare negozio adesso ve lo dico allora se fate presso i punti vendita 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso quindi normale quindi a fin di corte come parlaste cinque euro no per cinque ore sono dentro poi online invece spedizione a domicilio compreso a 10 euro quindi spedetto uguale sulla differenza è che non c'è specificato qualsiasi sono euro dentro io quando ho fatto la simico popolo se non mi pareva se fosse credito quindi teoricamente come zero o ci sarà di centesimi interna parte narrativa se fatto con prenotazione online delle offerte con ritiro il negozio copp il negozio copp ovviamente 10 euro in cinque ore traffico telefonico incluso quindi come farlo in punto vendita in poco parole funziona così no per chi non lo sapesse fate la procedura online poi fai ritiro il negozio e date ritirarlo dal punto vendita vede un codice e la potete attivare gli ecco quindi vorrebbe interessante comunque la promozione era consiste appunto di questa cosa qui che facendo la portabilità non importa con l'operatore abbassa sia portabilità in queste date qua dal 7 d'aprile al 4 maggio avrete questo 20 euro di bonus utilizzabile anche per rinnovo delle offerte che comunque non è male a fine conti parati dicevo facciamo nipotesi a facciamo il negozio ok dicevo 5 euro dentro con 20 euro di bonus ipotizziamo che abbiamo fatto la 8 era 90 la euro 100 quindi in totale quello che fa che avremo di credito e sono 25 euro giusto no quindi 9 18 sono quasi 3 rinnovi diciamo quasi 3 rinnovi e quindi non serve neanche male no a fine conti la spesa non è grandissima e comunque sarebbe sarà interessante sicuramente quella che c'era fino a qualche giorno fa forse era meglio ma io penso che questa qui sia un po meglio di credito alla fine qualcosa in più ti fai auto sim il mese che la fai sia posto il mese dopo sia posto e quello dopo ancora basta di fare una ricarica lina da 5 euro e sia posto questo funziona solo per tutta l'offerta evo e voce evo 30 evo 100 qualora dovreste fare levo levo 30 che io sconsiglio come ho detto più volte perché chiedo scusa è fuori mercato a livello di prezzo che però ipotizziamo che uno dovesse far quello è il credito che si arriva nella terra della sim che sono 25 euro levo levo 30 cosa sia euro 90 quindi siamo sette euro arrotondiamo ok e quindi sono 7 14 21 e avanzarebbe qualcosa di tante non saranno 21 comunque sarebbero datori di centesimo ognuno mi sarebbero 20 euro e settanta comunque ma facciamo così lei e quindi sarebbe anche interessante no se invece facessimo la voce ipotizziamo che ne so anche se è una voce come ricordo ho detto che sarebbe 100 mega compresi anche se non c'è specificato ma coppo voce dice che da 100 megabit che sono pochissimi o che 100 mega non so neanche il perché li dia questo punto dai meno un giga 5 euros ma comunque vabbè facendo quello invece avremmo cinque mesi e avanzarebbero 50 centesimi perché saremmo 4 94 94 94 94 94 90 sono avrebbero fuori 24 50 comunque e quindi avremmo cinque mesi ma anche se levo anche la voce in realtà e la sconcilia per 5 euro ci sono operatori che vi danno anche qualche giga quindi adesso detto questo cosa posso dire beh come ho detto altre volte capo c'è un operatore virtuale che è consolidato ormai da c'è da tanti anni ha una buona fama per il semplice discorso che si è sempre comportato in modo onesto gli operatori sono cordiali sono gentili rispondono bene le offerte si è vero sono sempre stata abbastanza carette e di queste fatte qui che propone oggi è l'unica che mi spingono consigliarvi nevo 100 per un carassi in buona tiene bene o partura team alla possibilità di restare dell'unico operatore attualmente sotto rette team a dare la possibilità di fare il restante restante cos'è il rinnovo dell'offerta anticipato quello che si finire gigabyte e bene diciamo che non c'è altro da dire riguardo se non un punto ecco se quello fosse interessati magari ecco fatevela in cui per vedere lì in modo da ottenervi il bonus ok so che di tanto coprovoce dava il bonus o in questo modo qui o magari dava un buono spendibile negozio ma io preferisco queste persone poi meglio come direi che con questo con coprovoce abbiamo insomma siamo a posto e direi appunto di passare al prossimo operatore e di parlare un attimo di della prossima news allora sì l'offerta che propone possa mobile è un'offerta un po particolare che da una parte poteva essere interessante per chi magari utilizza un po di gigabyte con orari fuori casa però dall'altra dico ha davvero senso loro vi spiego il perché il 21 marzo di quest'anno ovviamente post mobile ha lasciato forno offerta e la chiamata post mobile super 20 io inizialmente appena letto su per minuti mente super ricarica detto magari detto c'entra qualcosa detto quel prezzo di magari ti da qualche giga e quelli che non usi ma recupera invece è diverso purtroppo ora vi spiego la cosa vi da 4 euro mese tondi ok il traffico voce sms a consumo ma vi da 20 gigabyte quindi solo giga 20 giga alla velocità del 4g standard che la post mobile ovvero 300 megabit in download e 50 in upload e copertura vodafone quindi comunque sforzature non ne ha però ora vi spiego allora l'offerta vostro mobile super 20 prevede l'attivazione del piano post mobile unica new per le chiamate di sms con opzione mobile 10 giga per la navigazione internet rispetto ai 10 giga già inclusi nell'opzione viene erogato un bonus di 10 giga aggiuntivi erogati entro 24 ore dall'attivazione della sim per il primo mese e a partire dal secondo mese contestualmente rinnovano l'offerta quindi come ho detto il primo mese abbiamo accennato metto quelle attivate 10 giga però c'è scritto che nei giorni nei giorni 24 ore vengono attivati anche gli altri 10 ok quindi avremo 20 giga al mese a 4 euro ok come ho detto si eccoli qua 300 megabit download bene classico il piano che sarà attivo per chiamare consumo che è un po careto lunghe il piano post mobile uniche new 18 centesimi al minuto e 18 centesimi al messaggio con questo pian tariffario non è presente scatto la risposta quindi niente scatto la risposta e la tariffazione avviene a scatto anticipati di 60 secondi ok la navigazione inter incluse intesa per le connessioni effettuata mediante apn e gino utilizzati sono ok non sono con un labio che casco bene succede credito residuo va bene e basta invece 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 postale va bene pagheremo 15 euro la sim con 5 euro dentro di credito era bene ok l'ho fatto vostro mese allora il prezzo è anche buono di questi gigabyte in europa ne utilizzeremo 2 giga e 62 scritti in roaming disponibili però 2 giga e 62 vabbè di 10 per cento tipo un po di più se cliente consumato il bundle navigazione interviene bloccata in automatico ok i giga extra sì che offre un giga due euro e basta non mi pare che ci sia altro da dire se lo spot compreso chiaramente però vi invito sempre a dare un'occhiata al discorso del come se più volte possono abilità delle limitazioni sul discorso dell'utilizzo dell'hot spot finora l'unica opzione che ho visto che appunto non dà questa limitazione qua è il posto mobile sul per ricarica che ha un gigabyte a 2 euro più in più ti dare il doppio della ricarica fatta usabile per il mese successivo parli di nuovo comunque è quello l'unica cosa che da per il prezzo che vabbè ci sta però il discorso è come ho detto più volte purtroppo questo immobile quando è passato sotto rete vodafone si è resa un po troppo stritta con le regole ok adesso vi spiego perché lo vedete anche altri video ma è giusto spiegarlo perché dico questo perché possono avere sull'utilizzo dello spot il t ring o sull'utilizzo continuativo ha messo dei paletti ok ora se voi utilizzate l'hot spot per più di tre giorni consecutivi ok facendo più del 50 dobbiamo andare a vedere le regole ma dovrebbe essere più del 50 per ok se volete vado anche nel sito così ve lo leggo in diretta anzi facciamo così andiamo nel sito metto in pausa un attimo o forse no faccio prima andare direttamente senza farmi aspettare ma va faccio presto perché tanto basta riprendo una qualsiasi offerta allora ok si poi ok era tornata da che mi ma ho 30 gigabyte va bene allora non voglio questo mettiamo un altro qualsiasi offerta internet ok bene scopri di più ma anche quella qua possono per superventi sì perché ho andato a vederlo sul sito esterno così andiamo a dire nel dettaglio se cosa che dubito fortemente sia mai e sia cambiata la cosa termini condizioni forse non so se scritto qua non mi ricordo era di là vediamo no ok ok vediamo vedere la promozione qui non c'è specificato devo andare su uso personale perché secondo me è identico ci scommetto quel volete ragazzi ricaricabile ok ma faccio presto portando su già dove andare a cercare potere tante volte sei minuti va bene sì ok va bene ok eccolo qua lo rileggo velocemente ok perché è un po ha comunque il traffico dati messie le sviluppate modalità hotspot utilizzando terminali diversi da smartphone tablet che avete pc risulta superiore l'80 per cento del traffico dati totale quindi in un mese ok voi avete questi 20 giga il 10 per cento di 20 giga sono due giga giusto il cento per cento il 10 per cento sono due su due gigabyte giusto bene il 20 per cento sono 4 gigabyte ok e quindi l'80 per cento non sono altro che 16 gigabyte ok sono posta anche faccio pratica 16 giga per quindi se questi 16 gigabyte qua dovete utilizzati tutti in hotspot t ring dentro router non è consentito c'è scritto qui che risulta speriore deve essere non deve risultare speriore l'80 per cento se no vi bloccano la sim teoricamente ma intervengono a controllare la sim per venire considerato l'uso illecito tra virgolette allora il traffico dati giornaliero per visualizzare contenuti radiovesivi utilizzare applicazioni peer to peer ci intende anche netflix super per tre giorni costitutivi il 90 per cento del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata quindi come ci scrittano qua se utilizzate molto il t ring utilizzate molto lo spot vedete tanto in streaming lo fanno ci sono messa per salvare guardare la linea anche se io lo considero illecito non è giusto non dovrebbero permettere una cosa del genere l'agico non dovrebbe intervenire però è giusto dirlo purtroppo come ci credo quando deve superare per 3 giorni consecutivi il 90 per cento del traffico dati complessivo effettuato su una giornata quindi facciamo un'ipotesi allora oggi faccio fare due gigabyte domani due gigabyte e dopo domani due gigabyte facciamo una roba del genere ok 90 per cento di due gigabyte dovrebbe essere un giga e otto giusto una cosa del genere otto sì esatto sarà un giga e otto sì tipo 100 mega giga 9 dovrebbe essere un giga no aspetta perché aspetta sei due gigabyte il 10 per cento su 200 megabit no visto e quindi un giga e otto quindi se facciamo almeno un giga e otto usato così non è consentito purtroppo il per tre giorni consecutivi si intende oggi domani dopo domani faccio uguale per loro considerato illecito perché appunto è congestionare la rete e quindi non è consentito poi il traffico effettuato effettuato modalità hotspot non deve sperare per tre giorni consecutivi il 50 per cento del traffico dati complessivo effettuato il secondo giornata quindi anche qui due gigabyte facciamo l'ipotesi finish fa ridere perché un gigabyte sarebbe 50 per cento se voi fate più di un gigabyte in hotspot non è consentito giga prima su gigabyte perché ho usato due gigabyte come cosa ma si intende al 50 per cento di quello che fate in una giornata ok per tre giorni consecutivi non dovete sperare il 50 per cento il vostro traffico avete usato tra l'altro non so se neanche abbia dei contatori posta mobile dovrebbe avere l'intervento dentro l'app si quindi controllatele bene insomma perché avete 20 gigabyte neri sono molti quindi fai presto ma fa fuori il gigabyte per loro non è consentito ecco e poi per ultima cosa il traffico dati effettuato in upload non deve sperare per tre giorni consecutivi il 50 per cento del traffico dati complessivo effettuato a scuola giornata anche quindi anche qui quindi video chiamate quando fare magari fate i video magari li caricate ci sono cose del genere ok anche qui per tre giorni consecutivi non dovete sperare il 50 per cento è effettuato in ciascuna giornata non in totale le tre giornate in ciascuna giornata per farciò però è scomodo perché uno dovrebbe al mattina dire boh che ne so 8 gigabyte a fine giornata o anzi no fine giornata 8 gigabit se dovresti da lì controllare ogni volta c'è un po brutta questa cosa qua però io l'ho detto perché con posta mobile mi sono trovato bene in passato era un cura sotto rete win 3 da quando ha cambiato queste regole qui io ho perso purtroppo fiducia in vostro mobile perché non va bene non va bene adesso io non so se è stato imposto da vodafone non lo so comunque questa diciamo alla seconda news di questa offerta qua che ovviamente non c'è tanto da dire 4 euro mese questa 15 euro fa la in ufficio postale e online invece quanto costerebbe come vedere online a questa attivazione sim 15 euro da ufficio postale dicevo online dicevo online quindi 15 ufficio postale con 5 euro dentro e 10 online con 0 euro dentro o magari ci sono qualche forse su cinque euro ma siccome no 4 euro l'offerta mensile però secondo me 20 gigabit 4 al mese si può trovare di meglio però per chi magari volesse avere che non so avete un offerte che costa 2 euro sulla prima sim avevo volete avere un'altra offerta che costa magari pochi euro andate magari 6 euro mese avete 20 gigabit comunque tanto cioè secondo me no non la voglio proporre più di tanto però è giusto parlarne c'è chi fa i conti in tasca e giustamente dice 4 euro mese a me chiamare chiama chiamo poco le volte che chiamo magari chiamo a consumo messaggi mi manda più nessuno quindi posso capire diciamo quella che gigabyte mi bastano per carità uno faccio calcoli e giustamente però è che c'è un'offerta dell'anno di wow che offerta c'è anche ovvio e quindi scrivere un'offerta un po così peccato un'occasione persa io piuttosto avrei detto ti 12 gigabyte 15 gigabyte ti do anche 100 minuti ti do 50 messaggi ma almeno 100 minuti dici beh o almeno ci devo chiamare perché comunque così come facendo così che offerta è incompleta è un peccato peccato o almeno metterà consumo un metri che non so 4 5 centesimi al minuto 18 insomma potantino è comunque poi è stata anticipata di 60 secondi quindi comunque indipendentemente questa è stata attaccata un secondo no nel momento in cui risponde 18 centesimi quello discorso dovrebbe essere tariffato anche al effettivo secondo su me non vabbè c'è alcuni operatori che non fanno al minuto fanno tariffato come come effettivo quindi sono un po cose un po vecchie sono un po di mentalità voi che roba di offerte un po dieci anni fa tipo una cosa del genere vabbè posta mobile su certe offerte ancora un po indietro però è un operatore buono lei mi sono anche dilungato un po troppo direi che con questo chiudo qua perché volevo fare un video un po più corto ma purtroppo sono mi sono dilungato come al solito che tra questo e l'altro video su me sono 20 minuti quindi ecco niente direi che con questo è tutto io vi ringrazio la visione ragazzi vi auguro una buona serata spero il video vi sia piaciuto 7 domande dove chiarimenti volentieri rispondetemi qui risponderò prima possibile e detto questo iscrivete al canale si è ancora fatto quindi vedete il video come possono applicare e magari anche stati sanzionizzate per appunto porterò il video prima possibile adesso domani tu hai caricato video stasera adesso magari mi metto a registrare un altro gameplay magari andiamo avanti un risentivo o poco ma adesso vediamo e niente grazie tutto vi auguro una buona serata e mi raccomando a settembre pubblici super importante grazie per la visione ciao ciao